Non si potrà uscire dalle proprie abitazioni, residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi fino al prossimo 14 aprile. Con un'ordinanza pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania, il Presidente Vincenzo De Luca ha prorogato fino al prossimo 14 aprile su tutto il territorio regionale i divieti in corso per il contenimento del coronavirus. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei e individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute. È consentita la presenza di un accompagnatore nel caso di spostamento per motivi di salute, se lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità. Non è consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per i trasgressori è previsto l'obbligo di segnalazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e la misura dell'isolamento fiduciario nella propria abitazione per 14 giorni, con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Ieri pomeriggio De Luca aveva anche inviato una drammatica lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A preoccupare non sono tanto gli attuali numeri, ancora molto lontani da quelli della Lombardia e delle altre regioni più colpite dal virus, quanto la capacità delle strutture sanitarie del mezzogiorno di tenere botta a un'ondata di casi che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando gli esperti ritengono che il Sud possa pagare Dazio alla discesa, nelle ultime due settimane, di decine di migliaia di persone di ritorno dal Nord, soprattutto perché, e la denuncia del governatore della Campania a cui si è aggiunta quella della Puglia, da Roma non sarebbero ancora arrivati i dispositivi sanitari necessari per non combattere a mani nude contro il virus. Va in questa direzione il grido d'allarme lanciato dal governatore nella lettera al Premier. La comunicazione di questi ultimi giorni, relativa alla epidemia, è gravamente forviante. Il richiamo a numeri più contenuti di contagio al Nord, ha sottolineato De Luca, rischia di cancellare del tutto il fatto che non solo la crisi non è in via di soluzione, ma che al Sud sta per esplodere in maniera drammatica. I prossimi dieci giorni saranno da noi un inferno, siamo alla vigilia di un'espansione gravissima del contagio, al limite del sostenibile. De Luca non gira intorno al problema, per noi è questione di ore, non di giorni. Non voglio alzare i toni, ma non posso non dire che per quello che ci riguarda ci separa poco dal collasso, se il governo è assente. E giù con i dati, zero ventilatori polmonari, zero mascherine P3, zero dispositivi medici di protezione, a fronte di un impegno ad inviare in una prima fase 225 ventilatori sui 400 richiesti e 621 caschi protettivi. Non è arrivato nulla. Dati che per De Luca vanificano tutto il lavoro fatto per creare nuovi posti di terapia intensiva, che, in assenza di forniture continua, rischiano di non poter essere utilizzati. La conclusione del governatore nella lettera conta è drammatica. Permanendo questa nullità di forniture, non potremo fare altro che contare i nostri morti. La risposta del governo è arrivata da Federico Dincà, ministro per i rapporti con il Parlamento, che su Twitter ha scritto «Capisco che il governatore De Luca debba essere duro per mantenere il controllo della situazione in Campania, ma è ingiusto nei confronti del governo. L'esecutivo si occupa e attenziona in ugual modo sia le zone del nord più critiche che gli altri territori. L'Italia è unita», ha concluso il ministro. Intanto, l'ultimo bollettino della protezione civile della regione informa che ad oggi i malati di coronavirus, appunto in Campania, sono 1309. Ieri le persone risultate positive al tampone sono state 110. E chiudiamo con una notizia di speranza. La prima paziente, trattata con il Tocilizumab, il farmaco antiartrite, utilizzato dal professore Paolo Ascerto, l'oncologo del Pascale, è tornata a casa. Ha 59 anni ed era stata ricoverata in gravi condizioni per una polmonite da Covid-19 a inizio mese. Il 13 marzo è stata trattata con il farmaco antiartrite. Le sue condizioni sono subito migliorate e ieri ha lasciato l'ospedale Cotugno. «È un ulteriore segnale di attività del farmaco», ha detto l'oncologo Ascerto, che per primo ha avuto l'intuzione di usare il farmaco noto per gli effetti collaterali dell'immunoterapia per le complicanze della polmonite da coronavirus. Resta tuttavia il cauto ottimismo, ammonisce l'oncologo. È cauto anche Vincenzo Montesarchio, direttore generale del Monaldi, benché non può negare ottimi segnali vengono da altri pazienti trattati.